Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Durante la quinta puntata dell'Isola dei Famosi sono finiti in nomination Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Joe Bastianich, Alvina Vereconi-Scortecci, Pietro Fanelli e Daniele Radini-Tedeschi. Venerdì scorso però, dopo essere tornato dalla missione affidata agli dallo spirito dell'Isola, Pietro Fanelli ha deciso di abbandonare l'Honduras. A causa del ritiro del giovane poeta, la produzione del reality ha chiuso e poi riaperto il televoto. Dopo il ritiro di Pietro, il televoto di questa settimana è stato chiuso. Verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì sera nella sesta puntata dell'Isola dei Famosi. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso gli SMS verranno rimborsati. Dopo Pietro, chi sarà il prossimo naufrago a lasciare Caio Cochinos? Secondo i sondaggi dei vari siti, forum e account social dedicati all'Isola dei Famosi, i preferiti del pubblico sono Joe Bastianich e Cadi Gueye, mentre i meno votati sono Sonny Olumati e Rosanna Lodi. Potrebbe essere quindi uno dei due nuovi arrivati a dover abbandonare il reality. Praticamente una toccata e fuga, ma già dai primi giorni era evidente che la Lodi e Olumati sarebbero durati quanto un gatto in tangenziale. Considerando tutti i ritiri, gli infortuni e il fatto che i televoti non vengono mai annullati, è facile pensare che presto in Honduras potrebbero arrivare nuovi famosi concorrenti. Speriamo solo che questa volta ci sia del budget per far sbarcare sull'isola qualche nome interessante. Intanto, amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, dite cosa ne pensate e seguiteci sempre su Nova News 24.